A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere. Salve a tutti, in questa seconda puntata dedichiamo il secondo podcast continuando appunto alla nostra lettura al volume Luci sulla città, Palermo nel cinema, dalle origini al 2000. Un volume curato da me per edizioni lussografica, che ha visto anche la collaborazione e la scrittura di Emanuela Maria Giordano, Anna Studiale, Umberto Cantone, Guido Valdini, Franco Lamagna, Marco Betta, Fabio Petrucci e Rita Scedrini. Continuiamo quindi la nostra lettura descrivendo intanto la città e il territorio, perché esistono dei luoghi ed esistono delle città la cui eco storica li rende seduttivi, ecco, quando non indispensabili, così come il soggetto, la sceneggiatura, la narrazione cinematografica complessiva. Tuttavia vi sono delle città intessute con la sostanza stessa del film. Roma è quasi inscindibile dalle filmografie di De Sica, di Rossellini o Pasolini, così come Parigi da Carnet e Melville, così come Odessa per Eisenstein, o la Monument Valley per Ford, o Almeria, Almeria per Leone. Palermo, così come la Sicilia, è uno di quei luoghi, una città emblema della contraddizione, dannata e dannata di apostrofo, annata, quindi esodo, una città esodo ma anche placenta, archivio, archivio umano di un potenziale visionario, una città aristocratica e da girone infernale allo stesso tempo, una città che ti tira via le energie come un buco nero, teatro, una città teatro degli uomini e della carne, dell'anima. Palermo ha visto le troupe dei grandi cineasti, da Visconti a Germi, da Antonioni a Rossellini, poi De Sica, Rosi, Lattuada, Pasolini, Italiani, Petri, Zeffirelli, Ferreri, Patroni Griffi, eccetera. Un elenco lunghissimo. Ci sono luoghi e territori e città che per un insieme di virtuose assonanze scenografiche, storiche, paesaggistiche, ma anche sociologiche, accendono i riflettori su se stessi e inducendo la macchina da presa a raccontarli o addirittura ad ambientarli proprio lì, proprio in quella città, talvolta ricostruendo l'ambientazione in altro loco, in altre città, o persino in un altro continente, quando i costi di produzione consentono solamente riprese in studio o in esterni simulati. Un esempio per tutti. Capitan Casanova. È un film del 1948 di Cappespada ambientato a Palermo, ma non girato a Palermo, girato nel nuovo continente, in America. Infatti, sebbene sia stato coprodotto dagli Stati Uniti e dal Messico, è girato, è lì anche girato e lavorato. La Palermo vessata della tirannia viene rappresentata in studio. Siamo nel 1793, in questo caso, ed è stata la città totalmente ricostruita negli studi messicani di Churubuscu e in quelli statunitensi della Universal, sotto la direzione del maestro Roberto Gavaldon. Leggerò adesso un brano di un mio capitolo, I luci sulla città. Esiste un legame indissolubile che lega Palermo al cinema, un intreccio tra tutte le arti e la settima. I racconti, le immagini, i profumi, i suoni, le passioni e le tradizioni intrise di storia e passione. Il cinema girato a Palermo, ambientato, ispirato o che abbia solo sfiorato la Sicilia, ha ricevuto gli applausi e i consensi della critica, nonché della folla al botteghino. La qualità e la quantità sono davvero considerevoli. Eguagliano o superano filoni cinematografichi specifici, ma non esiste una cinematografia ufficiale palermitana né siciliana, sebbene esista un cinema siciliano. Come mai? Poi viene da chiedersi perché nel Novecento registi, attori, sceneggiatori e tecnici di vario tipo non siano riusciti ad affermarsi crescendo a Palermo, tranne rarissimi casi. Un vero e proprio rebus. Il filone siculo-panormita è ben identificabile, poiché mantiene elementi distinguibili, ma non resiste alla cinematografia specifica. Tra Palermo e il cinema sostiste una simbiosi, quasi biologica, che somiglia forse ad un rapporto do ut des, un rapporto d'amore, d'interesse, che come tutti i rapporti sentimentali presenta un confine molto vago, molto ondivago e precario. Belle emozioni e buone ragioni esistono solo se la capacità del cineasta colto si sposano con il fatturato del produttore. Tale può essere un matrimonio esposto a un tradimento come rischio, ai secondi fini, all'ipocrisia, alla cotardia, ma poi ricopre nuovamente l'intensità di un'unione ancora che funziona e quindi vale la pena riprovarci, con un'intensità maggiore, possibilmente. In parte il rebus si è già sciolto. Palermo oggetto e non soggetto del cinema. Palermo secondo gli stilemi montati e rimontati in ogni film con qualche variazione, quella comunque come la società l'ha assimilata, accettata, è vista al cinema. Spesso Palermo è stata protagonista di un cinema che l'ha obbligata a raccontarsi come gli altri volevano, tranne alcune eccezioni. E non sono sufficienti motivazioni di tipo sociologico o cronachistico a cui il cinema italiano ha guardato frequentemente per dare ingiter una cifra spaventosa e drammatica della città, usandola come proscenio delle piaghe tipicamente umane in chiave evolutiva. La relazione tra Palermo e il cinema si è evoluta, appunto, ma tende ancora a appoggiarsi sulla concezione artificiosa del vero che è tipica del cinema. Dal secolo scorso e dal periodo post bellico del Novecento fino al Duemila Palermo è mostrata come il cinema voleva che apparisse. E lì risiedono quei micro tradimenti degli autori di cinema, piccoli e grandi, autorevoli e nonno, ossia nell'appagamento dello spettatore nazionale e ai suoi preconcetti. Questo è il lato amaro della relazione di Palermo e il cinema, ovvero il prezzo da pagare per continuare a esistere entrambi nello stesso matrimonio, nello stesso connubio. Palermo decreta l'impostura, il pregiudizio generale che lo veicola. Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta del secolo i semi diffusori degli anni della contestazione germogliano in un nuovo bacino siciliano di autori autoctoni, formalmente ispirati da linguaggi realistici, di una ispirazione e talvolta di una nuova letteratura siciliana. Sulla base di una forte spinta motivazionale, a Palermo si confrontano i nuovi cineasti Daniele Cipri, Franco Maresco, Pasquale Scimeca, Egidio Termini, Roberto Andò, Giovanni Massa, Roberta Torre e Aurelio Grimaldi. Gli ultimi due sono entrambi palermitani d'adozione. Oltre che il regista da Oscar, Giuseppe Tornatore. Così che all'ultimo decennio del ventesimo secolo Palermo appare narrativamente diversa, sebbene non manchino le produzioni cinematografiche di pellicole fiction che rinvio a uno stile passato. Nelle produzioni dei nuovi autori Palermo si mostra più schietta anche nel riferire i suoi mali e ovviamente le sue virtù, più vicina allo spirito critico e autentico e molto lontana dal male della stereotipia che la erode e vilucra sul suo passato, che ha alimentato retaggi convenzionali su una città che ha l'attitudine per il set cinematografico, tra le più naturali e veraci d'Europa. A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere. A proposito di cinema,